Un bilancio positivo quello tracciato nella sala giunta dell'amministrazione provinciale di Catanzaro a qualche mese di distanza dalla sigla del protocollo d'intesa con la Fondazione Guglielmo e l'affidamento dell'incarico di coordinatore scientifico e direttore artistico del Museo Marca al suo presidente Rocco Guglielmo. Un'intesa che risponde prima di tutto all'esigenza di garantire la prosecuzione del percorso culturale avviato negli anni. L'impegno è quello di mantenere e valorizzare il sistema museale che ricomprende il Marca, il Musmi e anche il museo numismatico che in questo periodo è interessato da un progetto di strutturazione e innovazione rispetto alla qualità dell'offerta che quel complesso museale vuole dare alla città. In questa direzione il presidente Bruno ha anticipato l'intenzione di costituire un tavolo di lavoro con enti e associazioni per la valorizzazione del sistema museale della provincia, risultati degli ultimi mesi definiti dalla Fondazione Guglielmo soddisfacenti, sottolineando l'importanza del parziale finanziamento della mostra di Alberto Biasi che sarà finanziata all'80% dalla Regione per un ammontare di 100.000 euro mentre 35.000 saranno a capo della Fondazione.